Il Paradiso, episodi sino al 27-9, Tancredi inganna l'ex moglie, Portelli in ansia. Nell'anteprima della puntata del Paradisi delle Signore, che andrà in onda da lunedì 23 a venerdì 27 settembre. Matilde chiede a Marta di mandarle il quadro che ha lasciato a Milano prima che lei rompa con Vittorio. Quando Tancredi viene a sapere della telefonata, trova il modo di ingannare Matilde per riunirsi e avvicinarsi a lei. Matteo intanto ha intenzione di raccontare alla madre l'accordo che ha stretto con Umberto riguardo agli affari di Ofer. Il giovane ragioniere avrà paura di essere smascherato dal fratello Marcello. Matilde chiede a Marta di vedere in anteprima il dipinto di suo padre, Il Paradisi delle Signore, che si terrà dal 23 al 27 settembre. Durante le puntate di Il Paradisi delle Signore, che andranno in onda dal 23 al 27 settembre, Marta riceve una telefonata da Matilde, che le dice che prima di partire per l'America non potrà fare a meno di mandarle un quadro che ha trovato dentro di lei. Casa. La figlia di Umberto venne però a sapere che il bozzetto apparteneva a Tancredi, e Tancredi pose la condizione che Matilde potesse riceverlo a patto che glielo consegnasse personalmente. Intanto Marcello è sempre più convinto di introdurre Il Paradiso nel mercato dell'alta moda e affronterà ancora una volta Umberto Guarnieri e Galleria Milano Moda. Matteo cercherà in tutti i modi di fare cambiare idea al fratello, soprattutto per evitare che Barbieri venga a conoscenza del patto tra lui e il comandante in capo. Armando incontra il padre di Elvira nella nuova puntata del Paradisi delle Signore, Elvira sarà molto triste nel lasciare i suoi genitori, contrari alla sua relazione con Salvatore. Armando decide però di parlare con il padre di Venus e di fargli cambiare idea sul proprietario della mensa. Il compito non sarà così facile, perché nel frattempo il signor Gallo riceve una lettera da Tulio, l'ex fidanzato di sua figlia, e la situazione peggiora ulteriormente. Intanto, a Villa Guarnieri, Odile è sempre più convinta che potrà trovare un lavoro che lo renderà indipendente e libero senza l'aiuto della madre. Adelaide decide però di sorprendere la figlia con un colloquio di lavoro. Marta aiutò Vittorio e Matilde a fuggire. Nella precedente stagione del Paradisi delle Signore, Marta aveva detto a Matilde che voleva denunciare Tancredi per aver abbandonato la casa coniugale e che di lì a poco sarebbe stata arrestata. A questo punto Vittorio e Matilde Frigerio decisero di fuggire dal paese. Grazie al prezioso aiuto della figlia di Umberto, i due poterono lasciare Milano ed emigrare negli Stati Uniti.